Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. L'anticiclone si sposterà sempre più verso ovest, consentendo ad aria più fresca balcanica di sopraggiungere, specialmente lungo le regioni adriatiche, apportando un deciso calo termico fino a 10 gradi in meno rispetto ai giorni scorsi. Tuttavia la giornata risulterà abbastanza stabile e soleggiata, ma sarà segnata dai forti venti di tramontana. Andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per domenica 18 giugno. Cielo con residui addensamenti al mattino sulle zone interne, ma con tendenza a rasserenamenti sempre più ampi nel corso della giornata. Al pomeriggio cieli soleggiati ovunque, salvo sporadici annuvolamenti sulle alture lucane. In serata leggero aumento della nuvolosità sui settori costieri, dibatte, barese, con possibili brevi fenomeni. Altrove cielo sereno, poco nuvoloso. Temperature insensibili e diminuzioni nei valori massimi anche di 8-10 gradi rispetto ai giorni scorsi. In calo anche le minime. Attenzione ai venti che soffieranno moderati o forti di tramontana. Mari molto mossi o agitati. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Oggi ringraziamo il nostro telespettatore, Alfonso Zuccalà, per aver immortalato questo caldissimo tramonto dei colori saariani che abbraccia Torre dell'Alto, in Salento. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci all'email che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.